Lo sapevi che è stata la caccia a permettere al linguaggio di svilupparsi fino a diventare l'insieme di regole grammaticali che abbiamo oggi? Eh sì, questo per due motivi principali. In primo luogo perché bisognava potersi tramandare le conoscenze circa la costruzione delle armi per andare a caccia, asce e arco e frecce. In secondo luogo perché lo stesso atto di cibarsi divenne un'occasione sociale. L'uomo andava a caccia, riportava la carne all'interno della comunità e lì veniva cotta e consumata tutto insieme attorno al fuoco la sera. Ed ecco quindi che se il nutrirti ti impegna fisicamente la bocca soltanto per dieci minuti contro le nove ore precedenti ecco che hai un sacco di tempo libero nel quale puoi iniziare a sviluppare il linguaggio e passare dunque da un insieme di ingrugniti più o meno articolati ad un qualcosa di più complesso, regolamentato. Il linguaggio fu una lingua nell'accezione che la conosciamo noi oggi.